3 minuti di recupero 3 minuti di recupero ragazzi 3 minuti di recupero segna lazzi forza forza che segna lazzi vai lazzi qua stiamo proprio in fibrillazione esterno stadio stiamo gufando stiamo gufando stiamo gufando ma come fa stiamo gufando ma guf come fai il gufo che succede che adesso è finito vabbè vincenzo allora aspettami non me ne vado e allora che vogliamo fare un minuto e dieci un minuto e dieci ancora milencovi ci sai ma chi attacca chi attacca la differenza fra te e noi è finito asigna da iu 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 porca più che la come se fa come si può fare No, non è possibile, linea allo studio, linea allo studio